Grazie a tutti. Nel Mirino l'attuale management ma anche la regione. Il 3 febbraio manifestazione a Cagliari. In occasione della chiusura del campo Rom dell'Arenoso avvenuta un anno fa, questa mattina all'Uqualte si è svolta una giornata tematica sul diritto alla casa per tutti. I lavori proseguiranno nel pomeriggio alla presenza degli assessori Arru e Maninchedda. Per lo sport domani è atteso appuntamento con gli internazionali d'Italia di motocross nella pista del Lazzaretto. Nel nostro TG parleremo anche delle gare e delle varie squadre ragheresi nei campionati di calcio, rugby e basket. Ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano con l'informazione locale su Catalan TV. Apriamo il nostro telegiornale parlando di aeroporto perché è iniziato ieri, sta proseguendo quest'oggi e presumibilmente proseguire anche nei prossimi giorni il sit-in dei lavoratori della Sogea. È organizzato da varie sigle sindacali, Filt CGL, Filt Cisle, Uiltrasporti e UGL Trasporto Aereo. Iniziativa organizzata per sensibilizzare passeggeri e opinione pubblica sulle gravi conseguenze di un eventuale ridimensionamento dello scalo algherese. I sindacati chiedono una nuova ricapitalizzazione della società di gestione come unica soluzione per evitare il commissariamento e consentire la salvaguarda dei livelli occupazionali, ma anche la sostituzione dell'attuale management e un bado di gara internazionale affinché anche il territorio del nord-ovest continui ad essere collegato con città nazionali ed europee, non solo con Roma e Milano. Nel mirino delle organizzazioni sindacali anche la regione finora assente in questo territorio, sottolineano. La protesta dei lavoratori non ha provocato disagi ai passeggeri e il prossimo 3 febbraio è prevista una manifestazione a Cagliari davanti al palazzo della regione. Ora ascoltiamo alcune interviste realizzate questa mattina, i nostri microfoni hanno parlato alcuni lavoratori, ma anche il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde, che ha voluto incontrare i manifestanti. Come lavoratori siamo preoccupati per la situazione che c'è qui in aeroporto perché non si capisce la fine che facciamo, cosa vogliono fare di questa struttura e di tutto il territorio. La politica non dà risposte, il managgiamento non dà risposte, nessuno dà risposte e noi siamo qui a protestare nella speranza che qualcuno ci ascolti. Siamo veramente tristi e amareggiati dalla non ufficialità di cose che immaginavamo e immaginiamo e sulle quali abbiamo molti sospetti che faremo una brutta fine. In molti di noi hanno da sfamare famiglie, figli, con quello che si prospeta, con i tagli che ci sono, con l'incertezza del non sapere cosa si è fatto e cosa non si è fatto finanziariamente. Abbiamo tanti dubbi che non ci fanno dormire la notte. Siamo molto preoccupati per una situazione della quale non riusciamo a definire i contorni. Ci sono tanti posti di lavoro in ballo, c'è un'infrastruttura importantissima, c'è una società di gestione che deve condurre per mano il territorio verso ipotesi di sviluppo. Oggi c'è molta nebbia, non abbiamo garanzie per il futuro, non abbiamo la certezza che si possa programmare, per esempio, una gestione dei voli a basso costo efficace ed efficiente. Non sappiamo quali saranno le sorti di questo aeroporto. Continuiamo ad essere ottimisti, però c'è da alzare la guardia, c'è da sollecitare Pigliaro e Deiana affinché intervengano e dicano qualche cosa. Dicano chiaramente che cosa vogliono fare, dicano chiaramente se c'è un progetto industriale, dicano chiaramente se c'è la volontà di ricapitalizzare, dicano chiaramente se c'è la volontà di definire un piano dei trasporti sardo che preveda un posto di rilievo, un posto importante per questa infrastruttura che in questi anni ha funzionato in modo tale da far crescere tutto il territorio. Noi siamo al fianco dei lavoratori, della struttura perché vogliamo che il territorio continui a crescere. E nel ricordare che la raccolta per il fondo Salvalo Cost scadrà domani, sul tema interviene, ha voluto dire la sua, Roberto Salaris, titolare di un'impresa di autonoleggio, settore quest'ultimo che come molti altri verrebbe inevitabilmente colpito da un'eventuale drastica riduzione di voli nell'aeroporto di Alghero. In una lettera si dice d'accordo con la proposta lanciata nei giorni scorsi dall'ex assessore al turismo Mario Conoci di destinare i proventi della tassa di soggiorno per sostenere appunto i voli low cost. Una proposta assolutamente in linea con le irrinunciabili esigenze dello straordinario momento di crisi nel quale si trova oggi il settore di collegamenti aerei che negli ultimi 12 anni hanno saputo dare impulso al movimento turistico sul nostro territorio e a una crescita sociale senza precedenti. Roberto Salaris, titolare di un'impresa di autonoleggio, sposa l'idea lanciata qualche giorno fa dall'ex assessore Mario Conoci. Può darsi che questa proposta costituisca il classico sasso gettato in piccionaia dove i piccioni avrebbero preferito rimanere a sonnecchiare quello che appunto sta capitando in sede di giunta regionale dove la parte politica che ha specifiche competenze e quindi precise responsabilità a riguardo sostiene di continuare a lavorare alla ricerca di una soluzione ma la soluzione non arriva. Siccome a pensare male si fa peccato ma qualche volta ci si azzecca può darsi che all'inefficienza e dall'incompetenza possa aggiungersi qualche nascosta volontà politica di tarpare le ale all'aeroporto di Alghero. Peccato che a pagare le conseguenze pesantissime di questa aberrante situazione sia un intero territorio nemmeno tanto piccolo quello cioè che direttamente e indirettamente gravita sull'aeroporto di Alghero tanto per intenderci più di un quarto della Sardegna. Nell'analisi che giustamente si deve compiere, scrive ancora Salaris va rilevato che queste conseguenze non riguardano solo la classe imprenditoriale che pur ha fatto e sta facendo corposi investimenti per ripagare i quali occorrono che tutte le condizioni perché il movimento turistico rimanga efficiente e il duraturo siano mantenute, beh si riguardano il tessuto sociale in generale posto che dal movimento turistico derivano ricadute che si riverberano su qualsiasi strato sociale contribuendo a mantenere un livello economico che comunque consente di assicurare una sopravvivenza dignitosa anche in periodi di crisi come quelli che stiamo attraversando d'altronde ricorda l'imprenditore algherese l'imposta di soggiorno è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale in carica proprio per assicurare la possibilità di sostenere gli oneri ordinari o straordinari che riguardano almeno prevalentemente se non essenzialmente il turismo senza essere obbligati a trovare risorse nelle pieghe di bilanci comunali già assottigliati dall'esasperazione un'imposta che anche se non totalmente condivisa ha comunque portato i suoi frutti grazie soprattutto a un fortunato positivo andamento della stagione 2015 frutti buona parte dei quali sono ancora da destinare non vedo quindi come l'eccezionalità della situazione di crisi dei collegamenti low cost che rischia seriamente di mettere letteralmente in ginocchio il settore turistico e l'economia dell'intero territorio non possa e debba costituire uno di quei motivi che giustificano più che fondatamente l'esigenza di utilizzare una buona parte di questi proventi per contribuire insieme al fondo in via di costituzione da parte dei privati a risolvere anche se solo in parte le problematiche della stagione 2016 oggi si tratta di una lotta contro il tempo che sta per scadere inesorabilmente quindi non c'è più un solo giorno da perdere per le stagioni successive conclude Salaris c'è obiettivamente più tempo per trovare soluzioni preappropriate e durature compresa anche la speranza di risveglio da parte delle istituzioni regionali le quali lo vogliano o no si devono assumere tutte le responsabilità del disastro che è alle porte Ora facciamo una prima pausa per la pubblicità tra poco Questa mattina a un anno di distanza dalla chiusura del campo Rom dell'Arenosu si è aperta al Qualtè l'iniziativa dal titolo Alghero, una città per tutti due i tavoli di discussione programmatico ordinati dai giornalisti Costantino Costu della Nuova Sardegna e Carlo Cefaloni di Città Nuova si è cominciato con i racconti video dal campo, le testimonianze delle famiglie Rom la descrizione del progetto di integrazione affidata agli operatori dei servizi sociali del comune di Alghero con le conclusioni dell'assessore regionale a lavori pubblici Paolo Maninchedda nel pomeriggio dalle 15.30 in programma la discussione sul tema Alghero nuovo modello di inclusione, il presente e il futuro con gli interventi di Martina Giuffre, docente di antropologia culturale Riccardo Maggi, segretario dei radicali italiani Silvia Serreli del Dipartimento di Architettura di Alghero il senatore Luigi Manconi, presidente della Commissione dei diritti civili del Senato della Repubblica e Luigi Arru, assessore alla sanità e servizi sociali della regione Sardegna ma sentiamo le parole ora del sindaco Mario Bruno Sindaco Mario Bruno, multiculturalità, progetti dell'amministrazione per l'integrazione e anche tanto altro se ne parlerà questa mattina qui al Qualtè in una giornata che avete voluto voi insieme comunque ad altri enti ad esempio la Caritas Massimo, una giornata a un anno dalla chiusura del campo Rom che non vuole assolutamente essere un momento celebrativo è un primo passo verso l'inclusione sociale pensiamo che ci sia ancora molta strada da fare un passo è stato fatto grazie certamente ai servizi sociali ma anche alle tante associazioni che hanno collaborato con noi Centro d'ascolto, Ascerom e tante altre davvero un'esperienza che ha portato quasi un sogno alla chiusura di un campo certamente per motivi igienico-sanitari ma anche insomma un'esperienza davvero tollerata per 30 anni magari voltando lo sguardo è quella del campo Rom dell'Arenoso tra l'altro le risorse circa un milione e mezzo che dovrebbero arrivare dalla regione verso l'Aore dovrebbero consentire la bonifica integrale di quel sito un'esperienza che ha bisogno esso di continuità un progetto europeo ha bisogno di fare in modo che questa esperienza che vede coinvolti tanti giovani e tanti bambini è un'esperienza normale per questo anche tanti altri comuni non solo della Sardegna molti sono presenti qui ci guardano e cercano di capire se è possibile esportare questo progetto non solo, parleremo di integrazione, di inclusione ma anche di una casa per tutti e questo vuol dire lo sguardo aperto a tutti gli agheresi con progetti importanti finanziamenti importanti che sono arrivati dalla regione due assessori regionali saranno qui Paolo Manincheda che si occupa anche di politica della casa Luigi Arro che si occupa anche di politiche sociali insomma cercheremo non solo di raccontare ma di individuare prospettive per il futuro quindi partiamo da un punto una chiusura di un campo un'esperienza di integrazione, di inclusione sociale nei quartieri, nelle case ma cerchiamo di ampliare lo sguardo a tutti i cittadini algheresi Questa mattina la nostra dolore serra abbiamo sentito però anche Antonio Cocco responsabile del centro di ascolto della Caritas di Alghero ascoltiamo Presente qui al Qualte questa mattina anche il dottor Antonio Cocco responsabile del centro di ascolto della Caritas di Alghero perché giornate di questo tipo sono importanti a livello non solo delle persone protagoniste di molti progetti messi in campo dall'amministrazione ma anche per la cittadinanza Ma sono importanti perché secondo me questo esempio di Alghero sicuramente è un momento importante da sfruttare proprio perché ci ha dato l'esempio di come certe situazioni di difficoltà vedi la povertà, l'emarginazione, i minori, i vari disagi possono essere superati con la volontà delle associazioni, delle amministrazioni comunali e comunque di tutta la cittadinanza questo è sicuramente un esempio da poter prendere proprio come modello e anche per eventuali altre realtà Le faccio una domanda nello specifico su quello che riguarda l'attività che lei porta avanti quotidianamente Il centro d'ascolto è una cosa molto importante in una città, ad Alghero soprattutto Come operate? Allora, noi intanto operiamo da oltre 25 anni Siamo aperti due volte alla settimana in via Morandi 34 e l'accesso è libero cioè nel senso che chiunque in questi giorni può venire tranquillamente viene ascoltato che è la cosa più importante dopodiché, visti i bisogni e le necessità si cerca di intervenire con dei piani personalizzati questo grazie all'aiuto economico che la Chiesa tramite l'Otto per Mille ci dà e anche la comunicazione comunale attraverso dei contributi per le associazioni di volontariato e quindi queste sono fondamentalmente le due entrate principali poi ci sono logicamente anche molti privati che contribuiscono con delle offerte le parrocchie comunque tutto questo messo insieme ci permette effettivamente di vedere anche circa 400 casi l'anno Oggi è in programma l'open day del liceo scientifico liceo scienze umane e ricoferme a partire dalle 16 sino alle 20 e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 per l'occasione i cancelli dell'istituto di via 20 settembre che vede il dirigente e il professor Antonello Colle d'Anchise rimarranno aperti al fine di dare a tutti l'opportunità di conoscere da vicino le strutture della scuola chiedere informazioni sui corsi attivi assistendo anche alla presentazione delle attività curricolari e integrative offerte lo staff organizzativo che in queste ore sta ultimando i preparativi invita pertanto curiosi e interessati a raggiungere in tanti liceo algerese per sfruttare l'opportunità offerta finalizzata a farsi conoscere e scegliere in vista del nuovo anno scolastico domani invece domenica 31 gennaio alle 19 il consueto aperitì dello spazio T ospita un progetto inedito curato e interpretato da Matteo Gazzolo Visione è uno studio di teatro sonoro sull'opera del controverso e oscuro scrittore Howard Phillips Lovecraft considerato uno dei padri delle fantasy e della fantascienza in Visione storia di carattere onirico tipica dell'autore l'attore Matteo Gazzolo da una personale interpretazione dei testi originali in alcun modo filologica cercando una luce quale che fosse nell'incubo senza speranze dell'opera di Lovecraft Gazzolo costruisce un mondo sonoro cinematico senza forzature su musiche dalle tonalità più scure sulle dissonanze bensì su tratti anche ariosi su accordi che possono aprire spazi per mettere al respiro di prendere tempo questo studio su Lovecraft sarà parte di una serie di registrazioni di teatro sonoro che Matteo Gazzolo sta realizzando nel tentativo di documentare ricostruendolo e ricreandolo a nuovo il suo lavoro di ricerca sul mito i simboli, il suono, la parola, il teatro il mondo invisibile che ha intrapreso fin dei primi anni 90 dopo il contributo artistico di Matteo Gazzolo come consuetudine verrà offerto al pubblico un assaggio enogastronomico l'inizio dello spettacolo come detto è fissato per le 19 non si accettano prenotazioni fanno sapere da Spazio T il numero di posti è limitato altresì lo Spazio T invita il pubblico a presentarsi con largo anticipo l'ingresso di 8 euro comprende sia lo spettacolo che il buffet questa sera invece il ristorante Bella Napoli in piazza civica ospiterà le selezioni per la Sardegna del premio Lucio Dalla giunto alla quarta edizione le cui finali nazionali sono in programma il 5, il 6 e il 7 maggio a Bologna presenterà l'appuntamento di quest'oggi Antonello Trudu ospiti della serata saranno invece Franco Calvia e Antonello Frongia facciamo un altro break pubblicitario ben ritrovati in studio l'apertura della pagina sportiva di oggi del nostro Tg è dedicata ai motori e alle due ruote perché è tutto pronto per l'internazionale d'Italia di motocross come è noto la prima tappa si svolgerà domani ad Alghero nella pista del Lazzaretto intanto dall'organizzazione fanno sapere che c'è stato già un record ossia quello riguardante l'acquisto delle prevendite si preannuncia un grande successo per la tappa di Alghero degli internazionali d'Italia motocross 2016 continua infatti senza sosta l'acquisto dei biglietti in prevendita che ha infranto lo straordinario tetto di 3.000 tagliandi staccati riuscendo ad eguagliare le tappe precedenti in Sardegna ma non è ancora finita senza dubbio si tratta del segno tangibile della grande passione che anima il pubblico sardo che sta dimostrando il suo interesse per una manifestazione che si preannuncia storica è la prima volta infatti che il tracciato del Lazzaretto ospita una gara di livello internazionale ed è la prima volta che i migliori piloti di motocross del mondo si affronteranno nello straordinario scenario naturale a picco sul cristallino mare della Sardegna la temibile sabbia rossa sta prendendo forma e si sta trasformando in un tracciato difficile e tecnico che metterà alla frusta piloti e moto all'esordio in questa stagione agonistica che si annuncia più combattuta che mai il dato che ci arriva dalle prevendite è davvero fantastico ha dichiarato il presidente del comitato organizzatore off-road pro-racing Alfredo Lenzoni e domenica con le ottime condizioni meteo che si annunciano assisteremo ad uno spettacolo straordinario ha proseguito allestito in questa cornice naturale di pubblico che immagino già come indimenticabile restano solo poche ore per acquistare in prevendite a tariffe scontate i biglietti per domani dopodiché si potrà venire in possesso del tagliando d'ingresso solo recandosi presso le biglietterie del circuito le gare avranno inizio domani mattina dalle ore 11.30 si chiuderanno con la superfinale delle 16.30 nella quale si sfideranno i primi 20 della MX1 e della MX2 e ora dopo aver presentato l'appuntamento di domani con gli internazionali di motocross passiamo al calcio iniziamo ascoltando nel servizio quali sono le partite che attendono Alghero e Fertiglia nel campionato regionale di promozione giunto alla quarta giornata di ritorno è stata una settimana particolare per il Fertiglia con la notizia di dimissioni dell'allenatore Angelo Bardini diffusa dal quotidiano La Nuova Sardegna poi smentita dal diretto interessato nessuno stravolgimento sulla panchina giallo-blu Bardini resta per inseguire un obiettivo quello della salvezza che con il passare delle giornate è diventato sempre più difficile non è impossibile però perché comunque la formazione Giuliana si è punti di ritardo dal terzo-ultimo posto che vorrebbe dire play-out domani pomeriggio in casa c'è l'opportunità contro il Fonni di ridurre il distacco e riaprire i giochi una vittoria giallo-blu farebbe gioco anche ai cugini dell'Alguero che di punti invece ne hanno 14 e ambiscono ad avvicinare la zona più tranquilla della classifica quella che consegnerebbe la salvezza diretta un pareggio contro l'ustintino ciuffato nel recupero non è servito a fare il passo avanti è auspicato ma ha permesso di mantenere inalterato il distacco dal gruppo di squadre che appunto sono fuori dalla zona più calda domani sul campo dell'usinese si preannuncia un match difficile perché la squadra dell'ex Peppone Salaris si trova ridosso dei primissimi posti e in casa ha conquistato 20 dei 30 punti complessivi perdendo una sola volta la decima giornata contro l'Ozzirese ad Alghero invece nel gironi di andata il rosso-blu caddero per la prima volta in campionato i ragazzi di Massimiliano ogni edu sperano di fare un altro sgambetto ma anche un punto potrebbe far bene per la classifica certo ma soprattutto per il morale e ora come sempre andiamo a vedere gli appuntamenti le partite in programma negli altri campionati iniziano dal girone è di prima categoria il match di cartello è sicuramente quello in programma domani pomeriggio al pintore Caddeo tra l'Olmedo e la capolista Cus Sassari la squadra di Gianluca Pinna riduce da 4 vittorie consecutive se la vedrà con l'unica formazione sinora imbattuta si tratta di fatto del duello che ha caratterizzato il torneo di seconda categoria nella passata stagione con i bianco-verdi che alla fine chiusero al primo posto davanti ai Sassaresi conquistando la promozione in prima scendendo proprio in seconda categoria nel girone P.I. Laudax che secondo in classifica giocherà sul campo del Golden Uri il Treseliges terzo invece ospita il Cappanedda mentre il Maristella farà visita alla capolista Ittiri ora un'altra pausa ora il rugby l'amatori Alghero ancora di scena a Sassari per disputare la gara casalinga della dodicesima giornata del campionato di Serie B che la opporrà al rugby Sondrio Sertori Anversa e i compagni vanno a caccia della sesta vittoria stagionale Per la dodicesima giornata del campionato nazionale di Serie B l'amatore rugby Alghero incontrerà il rugby Sondrio Sertori si tratta della prima giornata del girone di ritorno che ancora a causa della squalifica del campo inflitta dalla federazione la compagina l'elghierese dovrà disputare sul comunale dell'arena del sole di Sassari in località Badelonga Russeglia la partita in programma domani alle 14.30 sarà arbitrata dal signor Cesare Onofri all'andata erano stati lombardi a fare i punti ma domani sarà tutta un'altra storia avversa i compagni dopo la sconfitta nel derby con il capoterra hanno ottenuto un pronto riscatto contro il Parma 1931 superato per 26 a 7 che ha permesso di aumentare di 5 punti il bottino in classifica che vede l'elghierese a quota 24 non sarà una partita facile per Gadaga e compagni il Sondri è una squadra esperta e attrezzata e ha già guadagnato 39 punti in questo campionato sistemandosi al terzo posto in classifica gli ospiti arrivano però da una sconflitta e inflittagli dalla prima della classe Parabiago e sicuramente non verranno in Sardegna per tornare a casa a mani vuote ma l'amatori questo lo sa bene cercherà di far valere la forza che la contraddistinta in tutte le gare interne ancora una volta spazio ai giovani che insieme ai veterani cercheranno di portare a casa la sesta vittoria stagionale dopodiché i campionati andranno in pausa per i sei nazioni e si ritornerà in campo il prossimo 21 febbraio Prima di lasciarci vediamo anche quali sono le partite delle squadre cestistiche algheresi in serie B femminile per la seconda partita della fase a orologio la Mercedes ospiterà questo pomeriggio alle 18.30 al Palacorbia Lastro Cagliari in quello che si profila come scontro diretto per il terzo posto considerando che le Cagliaritane hanno 18 punti come la Mercedes appunto e il Sant'Orsola in campo questo pomeriggio ma alle 17.30 e al Palamanchia anche le ragazze della Pallacanestro Alghero in questo caso per la quinta giornata di ritorno di serie C avversaria di oggi è la vice capolista PGS Condor la squadra guidata da Coccio e Cossedu proverà a riscattare la brutta gara contro Rafferrini in campo maschile invece la squadra della Pallacanestro Alghero dopo una settimana di riposo giocherà quest'oggi alle 18 a Oristano contro l'Azzurra partita molto importante per le ambizioni di classifica in chiave playoff i ragazzi allenati da Coccio e Brembilla si sono allenati con determinazione e al completo mancheranno quest'oggi i fratelli Nieddu colpiti proprio nella mattinata di ieri dalla dolorosa scomparsa del nonno paterno a questo proposito la Pallacanestro Alghero in una nota esprime vicinanza al dirigente Tore Nieddu e ai ragazzi per la scomparsa del caro nonno Giovanni Raffaele e per oggi è davvero tutto ora come sempre spazio le previsionie del tempo per domani grazie per essere stati con noi e buon fine settimana grazie per aver guardato grazie per aver guardato grazie per aver guardato